Una nuova bufera si abbatte sul calcio italiano. La Guardia di Finanza, nell'ambito dell'inchiesta fuori gioco, ha eseguito da questa mattina un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di 64 persone, tra cui massimi dirigenti, calciatori e procuratori di squadre di calcio di Serie A e Serie B. L'ipotesi di reato è evasione fiscale, false fatturazioni. L'inchiesta è condotta dai PM della Procura di Napoli, Danilo De Simone, Stefano Capuano e Vincenzo Ranieri, coordinati dal procuratore aggiunto Vincenzo Piscitelli, coinvolto anche il Pescara nella persona del presidente Daniele Sebastiani nel mirino degli inquirenti, la cessione dell'ex giocatore bianco-azzurro Chintero al Porto al termine dell'ultima stagione di Serie A. L'inchiesta è partita dalla cessione invece di Lavezzi, dal Napoli al Paris Saint-Germain. Tra le decine di indagati nell'indagine della Procura di Napoli, che ha portato al sequestro di beni per circa 12 milioni di euro, ci sono anche l'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, il numero uno della società partenopea Aurelio De Laurentiis, il presidente della Lazio Claudio Lotito e l'ex presidente ed amministratore delegato della Juventus Jean-Claude Blanc. Siamo assolutamente sereni e convinti di avere fatto tutto secondo le regole, abbiamo già messo le carte nelle mani dei nostri legali e attendiamo fiduciosi che si faccia chiarezza. Così il presidente del Pescara Daniele Sebastiani. Sebastiani è indagato in quanto presidente del club Adriatico per il pagamento di un benefit al centrocampista colombiano Juan Fernando Quintero, che ha vestito la maglia del Pescara nella stagione 2012-2013. Secondo gli inquirenti ci sarebbero irregolarità nel pagamento dell'IVA e per la stessa vicenda è indagato anche il calciatore colombiano. L'indagine risale ad un anno fa e riguarda l'affare Quintero, ha confermato il padrone del Pescara. A suo tempo fornimmo tutte le carte agli inquirenti e oggi ci è arrivato l'avviso di conclusione delle indagini ma noi siamo, ha concluso il presidente del Pescara, assolutamente sereni e convinti che non ci saranno conseguenze.